Non vi dovete permettere di maltrattare i vigili urbani che stanno qua per fare il lavoro loro, per salvare la vita voi e le persone che vengono a fare la spesa. Se no ve li chiudo, non vi permettete più, non vi permettete più di maltrattare i vigili urbani. Non va bene, dovete chiedere scusa ai vigili urbani, stanno qua a fare il lavoro loro, a rischiare il culo le persone, stanno rischiando il culo i vigili urbani. Per voi e per le persone che vengono a fare la spesa, perché dobbiamo mangiare tutti a casa. Non si può mangiare tutti, le persone stanno venendo a fare la spesa, non dite cose che non sono me, dobbiamo limitare l'alternativa, l'alternativa è che chiudiamo, non si ha questa possibilità, l'alternativa è che chiudiamo. Ma hai messo la testa a posto, è sempre voi, la testa a posto, è sempre voi, sempre voi, qua nell'altro mercato, sempre voi, speriamo che avete messo la testa a posto veramente. Noi vogliamo, non vogliamo dare forza nessuno, noi vogliamo cercare di fare forza nessuno. Voi non dovete dare forza nessuno, perché non potete dare forza nessuno. Noi capiamo questa situazione. Allora, i vigili urbani vi dovete lasciare stare, stanno qua a fare il mestiere loro. Non vi permettete più, se no lo chiudo tutto il mercato. Siccome delle mie possibilità chiudono, io lo chiudo il mercato. Le persone devono mangiare e voi dovete lavorare, voi dovete lavorare allontanate, allontanate, non stare un metri in distanza. Voi dovete lavorare e le persone a casa devono avere igiene alimentare, ma dobbiamo rispettare le regole, se no si muore, si muore.